Proprio così, si parla di integrazione, integrazione giusta ed efficienza per atleti, ma anche come Stimil Anti-Aging e per performare anche la parte nutrizionale. Oggi vi parlo infatti di quello che il Dr.Rubesca fa per integrare, quindi nella vita di tutti i giorni, i suoi allenamenti oltre che la normale alimentazione. Partiamo da alcune basi scientifiche assodate. L'integrazione non è pare uguale alla farmacologia, l'integrazione serve perché ci manca una parte importante. Ecco che qui con voi farò vedere i miei principali integratori che utilizzo tutti i giorni. Parto di fatti con voi tra il primis che utilizzo tutti i giorni, eccolo qua, creatina monohidrato idrolizzata, il classico si potrebbe andare a definire, vado dai 3 ai 6 grammi al giorno, in questo periodo caldo ci si arriva tranquillamente, esperienza ultra positiva anche perché con questa integrazione io letteralmente non ho più il fiatone nello sporco che faccio, mi dà una energia, trattine più acqua, quindi il sentore della sete a livello proprio anche del muscolo dell'affaticamento è meno risentito, anche se in estate comunque si deve avere. La funzionalità della creatina sappiamo che ci permette di migliorare le performance fisiche e la prestanza, ha un aumento del volume della cellula muscolare, quindi abbiamo anche più ATP da utilizzare e abbiamo un rigonfiamento che ci giova fondamentalmente, abbiamo più tonicità. Sicuramente è un'ottima integrazione per la crescita muscolare e per energia. E primis, passiamo poi a un altro che adoro tantissimo, che ho finito e che poi lo utilizzerò, Ashwagandha. L'Ashwagandha si potrebbe definire la vera e propria erba da Super Saiyan, un'erba che di fatti permette il miglioramento delle performance mentali come concentrazione, ma anche le performance fisiche. L'Ashwagandha di fatti, come integratore, è un rilassante adattogeno mentale. Il rilassamento fa sì quindi di avere maggiormente concentrazione e incide anche sulla prestanza fisica. Si parla circa di una capsula. Questo l'ho preso dalla Yamamoto Nutrition, non sto facendo nessun tipo di sponsor, vi parlo di quello in cui ho utilizzato e che mi sono appunto trovato bene con Ashwagandha. Non poteva mancare poi quello che viene associato con la parte dell'Ashwagandha, ovvero sia berberina. Berberina, integratore davvero utilissimo anche a un'erba che aiuta a mantenere basso il colesterolo, in particolar modo generico e il colesterolo cattivo LDL, aumentandone l'HDL e aiuta tantissimo anche perciò la funzionalità epatica. È un connubio perfetto Ashwagandha berberina, sì si può fare, ce ne sarebbe anche un altro, ma è solo su prescrizione perché sarebbe metformina berberina che va a creare un ottimo anti-aging. La metformina però di fatti è un farmaco solo su prescrizione medica da 500 mg. La berberina invece è un'ottima erba che ha dei buonissimi effetti, anche che è se uno o due capsule al giorno. Proseguiamo con la salute intestinale. Abbiamo Symbiotics. Allora Symbiotics è un probiotico, anzi nel senso termine della parola è un complesso simbiotico perché hai probiotici e prebiotici assieme. In questo prodotto io stesso ho 150 miliardi di unità formanti colonie vive di batteri e funghi che vanno a rimettere a posto microbiota, io spesso utilizzo questi cicli di integrazione per l'intestino, abbiamo anche la parte prebiotica, perciò la fibra che è il nutrimento per il nostro intestino. E quindi fa sì che la fibra dalla parte dei prebiotici costituisca appunto il nutrimento dei probiotici. Ne fa davvero un'integrazione al top per la salute intestinale, da cui parte tutto energia, focus mentale, immunizzazione, difese immunitarie. Insomma, signore e signori, questo è sicuramente un integratore di panacea per la vostra vita e il vostro benessere. Ma non è ancora finita qui. Volete avere più energia, utilizzare il mitocondrio al top e avere anche forse forse un miglioramento delle performance energetiche e l'utilizzazione dell'acido grasso? Ebbene sì, è NAC, è Nacetilcisteina. L'Enacetilcisteina amplifica la funzione mitocondriale con la catena di respirazione ossidativa e la fosforilazione, perciò il lavoro del mitocondrio viene fatto al meglio. Mobilizza di più gli acidi grassi, perciò quindi si va a utilizzare lo strato lipidico, si ha un inizio di dimagrimento e inoltre aumenta anche la funzionalità immunitaria. Questo anche per l'ottima funzionalità mitocondriale. E adesso vi mostro la bomba, signori, ovvero la super bomba rigenerativa BPC-157, che è peptide rigenerante di Wolverine, che pensavo si rigenerasse, ma ho finito le 20 capsule, purtroppo non posso rigenerarle, ma ha rigenerato me. Nuova formulazione che io considero una delle migliori, che ho provato della Subsit e, ripeto, grazie anche alla Subsit c'è il mio codice sconto link in descrizione che è BESCAPE, con la B maiuscola senza accento, quindi utilizzatelo, signori. BPC-157 è una nuova formulazione molto molto importante perché abbiamo anche, oltre che la ricostituzione che viene fatta da questo peptide a livello delle articolazioni, dei muscoli danneggiati, permette anche una sintesi proteica in combinazione e poi con un componente che è presente all'interno qui dell'etichetta, che vi mostro e che vi elenco anche il nome, si parla di fatti della componente dell'anamorelin. L'anamorelin va a stimolare direttamente la sintesi del GH, quindi la ricrescita muscolare del tessuto che avviene, pensate un po', durante la notte. E vi anticipo già un altro integratore fondamentale. Comunque, grazie a questo, anzi grazie a lui, mi ha fatto fare sintesi proteica, quindi ha anche una ricomposizione corporea e tutti i dolori che avevo, che erano dovuti a stiramenti, dovuti anche alla sollecitazione articolare, qui sottopongo il mio fisico giornalmente nel giudizio brasiliano, sono letteralmente spariti. Oltre a ciò mi ha anche rigenerato e mi ha fatto fare anche un po' di sintesi proteica massa. Il mix con Nubio che io preferisco, quindi perciò a partire dalla nostra creatina monidrato, ma ha permesso fino adesso di non avere più fiatone. Ma c'è un altro integratore fondamentale. Sapete qual è? Sapete qual è? Signore e signore, è il sonno. Almeno otto ore di sonno al giorno, che voi siate dipendenti lavorativi, di professionisti, facciate qualsiasi lavoro, dovete pensare che il sonno è l'integratore fondamentale. Secondo me dormire otto ore al giorno permette che cosa? Permette una migliore performance e vivere anche bene. Il sonno è fondamentale per la buona riuscita della vita. Anzi, se dormiamo e sogniamo tanto, aumentiamo le nostre performance sia cognitive, mentali, riusciamo a studiare meglio, abbiamo anche maggiori performance atletiche. E di fatti qui c'è l'ultimo integratore che io utilizzo di sera prima di andare a letto, che vi mostrerò ora. Siete curiosi, il sonno è importante. Dal sonno generiamo sogni e generiamo anche il sogno perfetto con la melatonina. Io utilizzo tuttora da diversi mesi ZZQ melatonina e devo dire che mi fa fare dei sogni intensissimi e mi fa riposare al meglio. Concentrazione di erbe tranquilla valeriana. Va a stimolare con un gommino al giorno, questo aroma di frutto di bosco, quindi anche abbastanza dolciastro, la buona riuscita del sonno. Poi bisogna fare un discorso su tutto il genere del sonno, quindi evitare smartphone, luci diffuse, soffuse, completamente buio e fresco. Quindi siamo circa sui 20 gradi, è difficile in questo periodo estivo, ma sappiate che si può fare. Questo è il principe, anzi la divinità assoluta del sonno e seguono tutti gli altri. Dottor Besca vi ringrazia, presto avremo nuovi contenuti e quindi integrate, ma nutritevi in maniera sana e corretta. E dormite, dormite, è importante. Oh, scusate, mi ero dimenticato. Ultimo integratore, Dottor Vitale. E se passate dall'altro codice sconto, Dr. Besca Top, trovate un integratore, no, troppo adattogeno, molto 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 utile con caffeina, fenilalanina e letirosina che va a stimolare la sintesi della dopamina. Davvero, davvero, davvero ottimo per quanto riguarda la ricaptazione e l'appagamento, ma anche la determinazione e la concentrazione. Quindi Dottor Vitale, Dr. Besca Top e Subsit Bescape per un'integrazione letteralmente al top. Alla prossima, ciao!